Siamo al nostro undicesimo incontro di questo ciclo di momenti dedicati alla preghiera. In particolare sono un paio di incontri che stiamo guardando, affrontando la Rudraghita, ossia quella preghiera che Shiva ha insegnato ai Praceta, ai figli del re Pracinabari. Che volevano fare una meditazione per essere pronti per popolare il mondo. Siamo parlando all'inizio del Satya Yuga, insomma sono avvenuti un po' direi in effetti. Però insomma siamo proprio all'inizio e decidono, il re Pracinabari gli dà il compito a questi figli di popolare il mondo e loro dicono che decidono di fare 10.000 anni di meditazione. Pensate anche l'intelligenza per un compito così alto che è quello di popolare con anime, benedette il mondo e non solo quello ma ci vuole la meditazione, cioè ci vuole una mente di un certo tipo e loro erano già molto avanzati. Infatti Shiva, quando li ha visti per la prima volta, li ha subito riconosciuti come devoti di Vishnu e li ha accolti benevolmente perché Shiva è il più grande devoto di Vishnu. Allora abbiamo iniziato questa preghiera e Shiva appunto consiglia a Ipraceta di meditare su questa preghiera. Abbiamo letto anche la Pallasciuti, quali sono i benefici della meditazione, della recitazione di questa preghiera che sono enormi. Dopo alla fine di questa ora sicuramente arriveremo a leggerli perché siamo, non dico alla fine, ma insomma verso la fine. Insomma dopo la preghiera, dopo aver fatto alcune preghiere molto specifiche per propiziarsi, per sì, prendere rifugio in vari aspetti del Signore, anche attraverso gli esseri celesti che sono una manifestazione sua, dopo aver preso appunto rifugio in vari aspetti per essere, per ricreare un'armonia interiore e di tutti gli elementi di cui siamo fatti e quindi avere la benedizione ovunque insomma, avere la benedizione ovunque. Dopo essersi focalizzato sulla forma del Signore e dopo aver, e questa è la seconda parte, e dopo aver parlato della pura bhakti come l'amore per Dio, il puro amore per Dio, come il più alto sentiero che esista, passiamo alla quarta sezione di questa, se possiamo insomma dividere così, che lo facciamo proprio giusto per comprenderlo un po' meglio, comprenderlo un po' meglio, passiamo alla quarta sezione che parla del rapporto tra Krishna e la creazione, cioè tra il Signore Supremo e la sua creazione, di cui noi siamo parte. E quindi parla di questo aspetto che è sambanda, cioè del rapporto tra il Signore e le creature. Ci sono tre aspetti da considerare in un processo devozionale, che sono sambanda e rapporto nella verità, questo è proprio uno dei tre aspetti della verità, sono sambanda, il rapporto tra la fonte e la creazione, quindi il rapporto tra di noi e il Signore, praiogena, che è l'obiettivo ultimo di queste creature, di tutta la creazione, che è l'amore per Dio, prema, il puro amore per Dio, e Abhideya, che è il processo per arrivare da dove siamo attraverso questo rapporto che abbiamo stabilito con sambanda, arrivare appunto a praiogena, arrivare all'obiettivo. Quindi in questa sezione parla del rapporto tra Krishna e la creazione. Vi ricordo che sono nel quarto canto dello Shrima Bhagavatam, un bellissimo canto, tra l'altro, molto, molto, molto variegato, pieno di avventure. Sentivo ieri una bellissima conferenza di Gowaranga Prabhu che diceva che noi non siamo attratti da ciò che è ordinario, e nemmeno ricordiamo ciò che è ordinario, e nemmeno vogliamo seguire ciò che è ordinario, ma siamo attratti invece da ciò che è nuovo, e ricordiamo qualcosa che è straordinario, qualcosa che va fuori dall'ordinario, qualcosa che è indimenticabile. E vogliamo seguire le orme delle persone più eccelse. E diceva che è per questo che il Signore svolge i suoi lila, i suoi lila eterni, proprio per creare delle condizioni affinché noi appunto veniamo attratti da Lui, in varie situazioni. E il Bhagavatam è un'espressione di questo desiderio del Signore di ristabilire la connessione con noi, perché proprio è colmo di avventure, descrizioni, personaggi indimenticabili. E in questa occasione appunto, ritorno perché se no mi divago, in questa occasione appunto parliamo anche del Shiva, lo è una persona straordinaria, un personaggio del Bhagavatam straordinaria, ma non solo del Bhagavatam, ma di altri purana, di lupanishad, e nel Bhagavatam lo troviamo in vari momenti, in vari momenti. Ma nel quarto canto lo troviamo molto, ce lo ritroviamo spesso. Allora, il verso dal sessanta, ah sì, scoprivo dicendo al quarto canto, capitolo ventiquattro, e verso dal trentadue al settanta otto, non mi ricordo, non ricordo questo. E siamo arrivati al verso sessanta. Leggo insieme a voi. Mio caro Signore, il Bramano impersonale si diffonde in ogni luogo, come la luce del sole e lo spazio. Il Bramano impersonale, che si diffonde da un capo all'alto dell'universo, e in cui tutto l'universo è manifestato, sei tu. Quindi il primo aspetto del rapporto tra Krishna e la creazione, il primo aspetto che prende in considerazione, è il Bramano, il Bramano impersonale, che è il primo aspetto anche della verità assoluta. Ricordiamo Brameti, Paramatmeti, i Bhagavan, i Teshabbiate, Brameti, il Bramano è il primo aspetto, dove cogliamo che c'è un'energia divina che permea ogni cosa. Questo è il Bramano, il Bramano impersonale. Cioè si dice impersonale perché non ha un corpo a sé. Per quello si dice anche che il Bramano è il Bramagioti, quindi la luminescenza del Bramano, che è questa energia, non è altro che la luminescenza del corpo del Signore, di Bhagavan, di Krishna. Quindi il Bramano non è un aspetto separato. Per alcune filosofie sembrerebbe un aspetto separato, anzi sembrerebbe un aspetto ultimo, un aspetto quello più alto del conseguimento della verità assoluta. Ma, sia nella Bhagavad Gita, ma Prabhupada è molto chiaro, ma non solo Prabhupada, proprio i testi sono molto chiari quando indicano invece che sono tre gradi a salire, tre gradi a salire della realizzazione spirituale. Primo è Brahman, appunto questa consapevolezza, non è una consapevolezza solo intellettuale, una consapevolezza realizzata, una consapevolezza di far parte di un'unica sostanza, di far parte di un'unica sostanza. Il Paramatma, il secondo gradino, che è avere la consapevolezza realizzata che nel nostro cuore c'è il Signore, cioè che il Signore è il Signore di ogni creatura. Il Bhagavan. Il Bhagavan è la consapevolezza realizzata più alta, la consapevolezza più alta, dove si realizza che il Signore è in realtà realmente una persona, una persona che svolge le sue infinite e meravigliose attività in tutti i mondi e ha un rapporto d'amore con ogni sua creatura. Però l'ho detto in modo anche molto, insomma, sarebbe da prendersi il tempo per affrontare più adeguatamente questi concetti, visto che sono alla base della filosofia. Vedica. Beh, insomma, comunque, quindi il primo aspetto che prende in considerazione è appunto Brahman. Prabhupada nel suo commento richiama un ottimo verso, 9.4. Mayatatam midam sarvam jagat avyakta avyakta murtina matstani savabuttani nacaham teshuavastitaha Sono io nella mia forma non manifesta che pervado questo universo intero avyakta non manifesta Tutti gli esseri sono me matstani salvabuttani ma io non sono il loro na chaham teshuavastitaha Ok, bene Il secondo verso di questa sezione invece dice il 61esimo Mio caro Signore Tu hai molteplici energie che si manifestano in molteplici forme Con queste energie hai creato anche questa manifestazione cosmica e sebbene tu la mantenga come se fosse eterna alla fine la distruggi Sebbene tu non sia disturbato da questi cambiamenti e alterazioni gli esseri viventi ne sono turbati Perciò pensano che la manifestazione cosmica sia differente o separata da te Mio Signore Tu sei sempre indipendente Io posso vedere con chiarezza questa verità Bellissimo questo verso perché parla di Maya dell'energia illusoria del Signore parla del Signore e parla dell'Egiva parla delle anime che sono all'interno noi delle anime che sono all'interno dell'energia materiale trattenute in qualche modo dell'energia materiale e dice come come questa creazione questa modalità con cui il Signore ha voluto creare le cose ovviamente a lui non disturba cioè le energie si muovono in modo ordinato si creano si mantengono si distruggono e lui non ne viene mai disturbato ma siccome noi invece ci sentiamo separati dal Signore siamo turbati da questi cambiamenti perché non riconosciamo una permanenza vediamo solo le cose che accadono le cose che scompaiono e quindi come dicevamo la scorsa volta abbiamo paura turbati abbiamo paura abbiamo paura che anche a noi accada questo perché? perché lo vediamo perché lo vediamo intorno a noi e perché non siamo consapevoli che dentro di noi c'è anche qualcosa d'altro qualcosa che effettivamente è permanente Prabhupada è un bel commento questo a questo verso richiama e dice che appunto il Signore stesso nella Krishna stesso nella Bhagavad Gita dice che ci sono tre energie energie esterne energie interne energie marginale noi facciamo parte della Tatasta Shakti che è l'energia marginale ma è comunque un'energia spirituale noi nel senso come anime come esseri spirituali è comunque un'energia spirituale ma siamo proni siamo proni a identificarsi con l'energia materiale che di fatto è inerte di fatto è inerte ed è ed è questo è un bel punto di Prabhupada dice che è l'energia materiale che di fatto crea le distinzioni cioè dall'alto il Signore per lui non c'è distinzione tra l'energia spirituale e l'energia materiale sono tutte sue energie che lui muove a suo piacimento è l'energia materiale quindi noi parliamo di energia materiale come quando la guardiamo dal nostro punto di vista come qualcosa di staccato dal Signore è l'energia materiale che 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 crea queste differenziazioni anche nella nostra mente a parte che scusate ero rimasto ai saluti di Laura e dopo non ho più scorso Hare Krishna Luciano Danalita Sundare Hare Krishna Siddhartha Kurane Shradveta Prabhu Hare Krishna Selena Renata Eros Anna Maria Hare Krishna a tutti infatti lui dice un filosofo Vaishnava c'è un davoto un Vaishnava uno spiritualista vero quando parliamo di Vaishnava pensiamo a non a una categoria religiosa ma a una categoria esistenziale cioè a una persona che è connessa al Signore non a quello che fa parte di quella tradizione specifica e che fa così e che fa con là che la pratica e così o con là ma pensiamo quando parliamo di Vaishnava è proprio devoti del Signore cioè devoti del Signore indica anche qua non una categoria religiosa ma una categoria esistenziale cioè il fatto di anime persone che hanno realizzato questa eterna connessione che è di tutti ma loro l'hanno realizzata e quindi per quello si chiamano vengono chiamati devoti del Signore ho questa luce che sta entrando molto bella e dice un filosofo Vaishnava che conosce perfettamente Dio la persona suprema non vede alcun disturbo nemmeno nell'energia materiale poiché sa come utilizzare anche l'energia materiale al servizio del Signore Re Krishna Emanuele sono felice anch'io di questo Sadhu Sangha realmente infatti per un devoto non c'è nulla di materiale perché esistenza materiale significa dimenticanza di Dio dimenticanza di questa connessione quindi noi lo diciamo tanto questo termine energia materiale siamo non so le paludi dell'energia materiale il pozzo scuro dell'energia materiale ma bisogna capire che non è un giudizio di merito di un'energia di Krishna del Signore ma è un giudizio sull'uso di questa energia cioè siamo noi che siamo ci siamo infilati nel pozzo scuro siamo noi che siamo dentro le sabbie mobili siamo noi che percepiamo le sabbie mobili tra l'altro siamo noi che non vediamo e quindi ci immaginiamo in un pozzo scuro non so se rendo chiara continua mio caro Signore la tua forma universale e quindi qua parliamo della forma universale è costituita di tutti i cinque elementi dei sensi della mente dell'intelligenza del falso ego che è materiale il paramatma la tua espansione parziale che dirige ogni cosa gli yogi non devoti cioè i karmi yogi e gli anayogi ti adorano con le loro azioni rispettive secondo la posizione che occupano sia nei veda sia nell'isciastra che sono corollari dei veda in verità in ogni altra scrittura è prescritta solo la tua adorazione questa è la versione competente di tutti i veda un verso molto 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 diretto no un verso molto diretto qua parla della forma universale del Signore abbiamo visto il brahman abbiamo visto l'energia abbiamo visto il brahman abbiamo visto le energie del Signore che sono connesse a Lui ma il Signore ne è comunque distaccato cioè non è turbato a ricrisaggere non è turbato dai movimenti delle sue energie ovviamente perché sono le sue energie che lui dirige e stiamo parlando adesso della forma universale cioè di quella forma che è costituita appunto dai cinque elementi dai sensi dalla mente il Sankhya Yoga parla molto bene di questa forma universale dall'intelligenza da buddhi dalla mente manas dal falso ego ha hankara dal falso ego però proiettato nell'energia materiale proprio il falso ego quindi l'identificazione con l'energia materiale sono elementi un po' su cui a dire la verità non vorrei soffermarmi adesso per chiarirli perché perché sono molto lunghi da spiegare in realtà però c'è la parte vi consiglio la parte del Bhagavatam dove ci sono gli insegnamenti di Kapila Deva che parla molto molto in modo molto molto preciso di questi aspetti della verità e del Signore comunque loro qua dicono i yogi non devoti cioè i karma yogi e i jnana yogi cosa vuol dire karma yogi e i jnana yogi vuol dire che noi troviamo tra l'altro nella Bhagavad Gita karma yogi e i jnana yogi ma in questo caso sono persone che si avvicinano al Signore non per compiacerlo cioè non per ricercare un amore un collegamento d'amore con Lui ma per altri scopi per altri scopi quindi si avvicinano al Signore con un cuore che non è unificato che non è unito a Lui ad esempio karma yogi appunto ha capito il funzionamento del mondo ha capito quali sono che già comunque abbastanza perché tanti insomma non lo capiscono e si scontrano continuamente con muri ma ha capito il funzionamento del mondo e in qualche modo lo usa a suo vantaggio quindi sa che facendo quello otterrà questo facendo quest'altro e non quest'altro otterrà quell'altro e quindi si muove in un modo intelligente diciamo in un modo intelligente ghana yogi invece è colui che aspira alla conoscenza alla conoscenza che non è solo una conoscenza intellettuale però non riconosce ghana yogi non riconosce la suprema personalità del Signore è più facile che riconosca l'aspetto impersonale del Signore perché è più vicino proprio al concetto di conoscenza al concetto di qualcosa che tutto pervade qualcosa che è oltre la forma oltre il nome oltre la sostanza delle cose è oltre a tutto quello che noi possiamo conoscere e quindi questi sono gli anelli e però il verso dice sia neveda ne lisciastra che sono correllari neveda e in verità in ogni altra scrittura in questo caso proprio parla di tutte le scritture tutte le scritture autentiche è prescritta solo la tua adorazione e in effetti è così in effetti è così in tutte le scritture autentiche è prescritta l'adorazione del Signore leggiamo i salmi leggiamo i versetti degli inni dei sufi è prescritta l'adorazione del Signore questo è proprio anzi i salmi sono proprio bellissimi in questo senso proprio si capisce la focalizzazione su Dio la focalizzazione sul suo nome sulla sua gloria sulla sua potenza inarrivabile e questa è la versione competente di tutti i Veda e Prabhupada anche in questi commenti non entra troppo nel cioè non fa commenti molto lunghi Prabhupada a questa preghiera però molto molto concisi che è la sua grandissima capacità molto concisi e dritti al punto e richiama qui richiama qualche verso dal Bhagavatam dalla Bhagavad Gita dal Vishnu Purana in particolare quello della Bhagavad Gita volevo solo visto che abbiamo maggiormente questo collegamento e il 9.23 e dice tutto ciò che un uomo può sacrificare agli altri dèi o figlio di Conti è in realtà destinato a me soltanto ma è offerto senza vera conoscenza perché la vera conoscenza è riconoscere il Signore e offrire direttamente a lui ricordiamoci il verso 5.29 Bokhtaram Yagya Tapasam Sarvalokam Eshwaram eccetera Bokhtaram Yagya Tapasam sono io il beneficiario di tutti tutto il tapa tutta l'austerità tutti i sacrifici tutte le offerte tutte le offerte sono io l'ultimo beneficiario voi l'offrite agli altri pensando che loro siano agenti separati anime separate potenti e separate quindi che loro vi diano i benefici ma in realtà sono io che prendo quell'offerta io che do i benefici e che loro stai facendo in un modo corretto perché ti stai cioè poi ma è anche a livello materiale ecco a livello così di mondo è un po' così se abbiamo la possibilità di rivolgersi direttamente alla persona più alta della gerarchia conviene conviene piuttosto che rivolgersi a dei gradini più bassi in un certo senso insomma dopo prendiamo basso senza giudizio ovviamente in questi termini però avere la consapevolezza quindi non so anche proprio padre diceva noi possiamo rivolgersi agli esseri celesti ma sapendo chi sono sapendo che posizione stanno occupando e come e come ha fatto lo stesso Shiva all'inizio di questa preghiera si è rivolto a Vayu a Surya ad Agni a Soma si è rivolto a loro ma nella sua preghiera nel suo nel suo intento era implicito il collegamento col Signore quindi è ancora meglio non vuol dire renderli negletti ma ci mancherebbe non vuol dire non non dargli dovuto rispetto a queste personalità enormi meravigliose insomma ma vuol dire mettere nella giusta posizione è come rivolgersi ad una stessa famiglia sapendo che fanno parte di una stessa famiglia e i partecipanti i componenti di quella famiglia sono contenti quando viene rivolto a loro delle omaggi delle offerte in modo consapevole cioè sapendo loro a chi appartengono a loro chi sono non solo delle entità isolate ma loro chi sono continuiamo il verso 63 mio caro Signore tu sei la sola persona suprema la causa di tutte le cause prima della creazione di questo mondo materiale la tua energia materiale resta in uno stato di torpore quando la tua energia materiale si anima le tre influenze il guna per virtù la passione e l'ignoranza agiscono e in seguito a ciò l'energia materiale totale quindi tutti gli altri elementi che abbiamo detto prima l'ego l'etere l'aria il fuoco l'acqua la terra e tutti gli esseri celesti le persone sante si manifestano avevamo visto all'inizio quando abbiamo trattato il terzo canto la bella preghiera che si diceva degli esseri celesti che chiedevano ah si l'avevo fatta in una conferenza della domenica in effetti non l'avevo fatta all'interno di questo ma era in mezzo tra una e l'altra e l'ho portato in una conferenza della domenica mi sembra che gli esseri celesti sono stati creati chiedono al Signore chiedono al Signore di avere lumi di avere lumi su cosa fare sono stati creati dopo quindi chiedono loro direttamente quindi offrono a loro volta delle preghiere al Signore per dire dacci una direzione dici cosa dobbiamo fare dacci delle indicazioni e il Signore le dà e così è creato il mondo materiale quindi qui si rivolge all'aspetto di Mahavishnu del Signore di Mahavishnu quindi il Signore una manifestazione di Krishna che è più legata alla creazione alla creazione e dice nel commento dice che il Signore crea Prabhupada che il Signore crea la manifestazione la manifestazione cosmica perché vuole facilitare gli esseri dice egli vuole dare facilitazione agli esseri che vogliono imitare Dio nel suo piacere cioè noi a un certo punto abbiamo voluto sperimentare questa situazione in cui vogliamo imitare il Signore e dice è solo per loro che è stato creato questo mondo materiale quindi è vero che a volte viene viene descritto il mondo materiale come una prigione ne abbiamo parlato a volte ho anche detto anche io questa cosa le sbarre si usa anche l'analogia delle sbarre noi possiamo decidere solo il colore ma alla fine rimaniamo qua ma è anche vero che è un dono del Signore che ha fatto a noi se no avrebbe potuto anche fare qualcosa di molto più ordinario se avesse voluto fare una prigione avrebbe potuto fare anche qualcosa di molto più semplice invece ha creato questo sistema estremamente complesso della creazione pensate al movimento di come come si ordina e si coordina il mondo e le sue creature è il libero arbitrio di ogni creatura di ogni singola creatura e siamo veramente tanti come si coordinano in una manifestazione cosmica armoniosa è incredibile è incredibile quindi possiamo vederla anche come il dono che ha dato lui a noi per fare questo esperimento andrà bene andrà male lo capiremo se ci conviene non ci conviene però intanto siamo qui abbiamo un creato in effetti meraviglioso ha delle facce anche non non particolarmente apprezzabili però di fatto fa parte appunto come diceva prima il devoto colui che è connesso al Signore non vede queste situazioni non apprezzabili ma vede tutto come un'energia spirituale del Signore questo è il il tipo di visione che dovremmo avere che viene anche più volte consigliata nella Bhagavad Gita e continua proprio padre dicendo è come un genitore che ha il figlio che vuole non so ha il figlio piccolo che vuole cucinare che vuole cucinare ma è piccolo e la madre gli dà comunque tutti gli arnesi per poter fare qualcosa ovviamente sa che non è piccolo ovviamente quindi non lo mette di fronte vicino al fuoco va bene però gli dà anche qualche aggeggio finto qualche cosina un po' di farina un po' di acqua e intanto intanto si diverte una banana e intanto si diverte è un po' quello che abbiamo noi abbiamo quello che spesso diciamo che siamo molto di meno rispetto a quello che materialmente ne pensiamo ma siamo molto di più rispetto a quello che spiritualmente pensiamo di noi siamo molto di più in effetti stiamo giochichiando con delle energie in modo molto maldestro e proprio Padre dice è lo sguardo del Signore che rende attiva l'energia materiale è in quel momento che tutto si risveglia ed è per questo che è Lui l'origine di ogni cosa richiama questo bel verso della Brahma Samhita tutte le creature ne sono coinvolte è Lui l'origine di tutto è Lui l'origine di tutto e lo dice anche nella Bhagavad Gita questo è il verso 10 e 8 non lo leggo perché se avete il libro davanti magari potete potete guardarlo da voi io sono la fonte di tutti i mondi materiali e spirituali e ogni cosa emana da me i saggi che hanno questa perfetta conoscenza si impegnano nel mio servizio devonzionale e mi adorano di tutto cuore di tutto cuore è bello quindi come dicevamo sono coloro che hanno un cuore unificato che hanno un cuore singolo che pulsa in un unico movimento spesso invece ci troviamo che abbiamo il cuore diviso ci creiamo degli scopi magari alcuni sono anche alti ma contemporaneamente ne creiamo anche di altri e non ci accorgiamo a prima vista che succede che i nostri scopi vadano cioè loro vadano per direzioni completamente diverse è come tentare di come dire percorrere su una strada contemporaneamente in due direzioni opposte è un po' quello quello che cerchiamo di fare in questa nostra energia marginale un po' di qua un po' di là un po' di qua un po' di là ma come si può intuire anche da questa analogia della strada non posso andare contemporaneamente in due direzioni opposte non ce la faccio ed è questa la condizione lacerante in cui si trova l'uomo la sua anima tende da una parte e la sua identificazione tende da un'altra e si trova diviso si trova diviso e di fatto va un po' di qua e un po' di là un po' di qua e un po' di là e il risultato finale è che siamo fermi come diceva il ricordo di Gesù nel Vangelo non si può adorare contemporaneamente Dio e la ricchezza quando parlava della ricchezza parlava del possesso che è la l'energia principe dell'energia materiale l'attaccamento non si può o ami uno e disprezzi l'altro o ami l'altro e disprezzi il primo no non si può il cuore non può battere per due cose contemporaneamente lì dove è il tuo cuore c'è il tesoro quindi il cuore batte per una cosa o batte per uno o batte per l'altro e non sempre il nostro cuore batte dove noi vorremmo che che battesse o per le cose che noi così nella nostra idea la nostra visione vorremmo che battesse ci accorgiamo ed è per quello che io guardo 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 su di me ovviamente è per quello che non avanziamo per quello che non si avanza non perché ci siano delle regole stringenti o o delle o dei tranelli in mezzo dei eh dei così degli agenti che ti che ti rendono difficile la vita l'avanzamento l'avvicinamento al Signore semplicemente perché non lo vogliamo sembra è un po' è un po' da accettare però secondo me è così secondo me poiché tutte le attività di Narayana sono spirituali leggo la fine di questo di questo commento quando Narayana disse la creazione sia anche questa creazione era completamente spirituale era proprio quello che dicevamo adesso quando Narayana il Signore ha creato le cose l'ha creato spiritualmente non può fare qualcosa di materiale il Signore ovviamente e qualsiasi sua cosa non può essere mai materiale perché nulla è sconnesso a lui lui non ha la concezione di nulla sconnesso a lui non ha neanche la concezione di noi sconnessi a lui per noi di fatto cioè per lui di fatto noi siamo collegati a lui siamo noi che abbiamo la concezione della nostra sconnessione la materia esiste soltanto continua Prabhupada per chiudere questa piccola parentesi esiste soltanto per coloro che hanno dimenticato che Narayana è la causa originale cioè la materia quindi esiste soltanto per noi ricordiamocelo questo perché tante volte appunto abbiamo un po' categorie questo è materiale questo è spirituale un po' così un po' si diciamo un po' infantile come vabbè ho detto infantile insomma un po' così un po' superficiale ecco un po' superficiale come come visione perché di fatto anche io ce l'ho materiale spirituale adesso non voglio infatti anche io sono infantile nel mio percorso però capisco che è un po' superficiale che i devoti in effetti hanno un'altra visione hanno un'altra visione hanno una visione più completa più integrata più armoniosa più e anche più soddisfacente e anche più intelligente perché porta a una reale felicità mentre il mio cuore diviso porta alla sofferenza ma un cuore unificato non può altro che portare alla felicità continuo verso 64 mio caro signore dopo aver creato con le tue potenze personale entri nella creazione sotto quattro aspetti poiché sei nel cuore degli esseri viventi viventi tu li conosci e sai come essi godono del piacere dei sensi dopo adesso ne parliamo di questo la cosiddetta felicità di questa creazione materiale è come il piacere che l'ape trae dal miele dopo che è stato raccolto nell'alveare dopo che è stato raccolto nell'alveare quindi qua parla dell'aspetto del paramatma dell'aspetto del paramatma perché sia gli esseri individuali che il signore stesso entra nella creazione per rendere attiva l'energia materiale per rendere attiva questa energia che allo stato assopito è inerte è inerte e siamo noi che la risvoliamo come questo corpo è l'energia spirituale che dà vita a questo corpo che altrimenti sarebbe corpo sarebbe un corpo quindi in questo caso ci sono utili le categorie materiale spirituale sarebbe un corpo materiale inerte invece il fatto che sia presente all'interno di questo corpo un'anima un'anima individuale lo rende la rende vita nel momento in cui quest'anima andrà altrove questo corpo ritornerà a materia inerte quindi è vero che sia il Signore nel suo aspetto cosmico che tutti gli esseri viventi nel loro aspetto invece individuale entrano nel mondo nel mondo per portarlo in vita se non ci fosse nessuno essere vivente il mondo sarebbe ovviamente inerte non ci sarebbe vita se non ci fosse nessun essere vivente ed è lui attraverso il Paramat è il Paramatma che è il conoscitore di ogni cosa in qualche modo è al Paramatma che noi ci rivolgiamo quando facciamo le nostre preghiere c'è questo questa analogia nei Purana dei due dei due ocelli sullo stesso albero uno che continua che mangia i frutti dell'albero siamo noi il nostro animo individuale completamente immersa in questa attività e di fianco c'è un altro uccello invece che è testimone che continua a guardare quello che avviene ed è il Paramatma che è vicino a noi che è vicino a noi è vicino a noi proprio nel nostro cuore anzi è nel cuore dell'anima viene detto non è nel nostro cuore è nel cuore dell'anima quindi è sempre con noi è nel cuore dell'anima nell'anima spirituale ed è lui che ci dà il verso 1515 dice sono nel cuore di ogni di ogni essere io da me provengono il ricordo la conoscenza ma da me smriti il ricordo gyanam la conoscenza hapohanam e anche l'oblio tutto proviene da me ovviamente cosa vuol dire tutto proviene da me vuol dire che così lui ci dà e quindi noi siamo così succubi di questo potere incredibile che a volte ci dà a volte non ci dà no e lo dice poi nella Bhagavad Gita dice non mi viene la prima parola del verso ma dice nel modo in cui l'anima si rivolge a me così io mi rivolgo a lui così io mi rivolgo a lui c'è una bella una bella immagine che avevo che ho letto quando ieri ieri l'ho letto anche questo l'ho letto ieri su un posto di Danuridara è Swami è un discepolo di Prabhupada che vive tra l'altro almeno a una una delle residenze in upstate New York che è proprio vicino dall'altra parte della strada dove vive Sarasvarupa Daskoswami e anche dove vive Ravindasvarupa Prabhu e diceva quando nasce un vitello è completamente attratto dal capezzoli della delle delle mamelle della di sua madre e viene completamente attratto da quella cosa lì perché capisce capisce ha l'intuizione che lì avrà il nutrimento e come come reagisce la mucca reagisce leccando in modo molto affettuoso intenso il suo vitello cioè reagisce in modo in modo naturale a questa avvicinamento del vitello a lei è così il Signore avvicinamento nostro il suo è una una come dire una risposta una risposta naturale perché perché è una risposta data dall'amore noi ci avviciniamo in un modo un po' misto ma la sua risposta è sempre d'amore quindi no non ci sono impedimenti non ci sono impedimenti e ovviamente il suo amore è questo rispetto di quanto lui tanto come noi vogliamo avvicinarci a lui così lui si avvicina a noi ed è un rispetto magnifico che facciamo fatica noi ad avere tra l'altro con le altre creature che ci stanno intorno no perché vorremmo sempre un po' di più o un po' di meno trattati meglio trattati insomma o rispondiamo come dire come dire pam per foc cioè rispondiamo a seconda di come in quel momento pensiamo che sia la cosa giusta eccetera noi pensiamo molto a questa cosa perché in mezzo c'è il giudizio noi abbiamo il giudizio che ci che annienta ogni nostra evoluzione abbiamo il giudizio ma sul Signore non c'è giudizio c'è amore nel mondo materiale però nessuno può godere di una certa facilità senza essere inebriato il piacere materiale significa ebrezza mentre il piacere spirituale significa piacere puro sotto la protezione di Dio e la persona suprema perché noi continuiamo a mangiare quel frutto e a non rivolgersi e non girarsi e guardare l'altro uccello il paramatma perché perché in effetti l'energia materiale inebria vi ricordate la qualità apramata non inebriato perché in effetti l'energia materiale è pramata cioè ci rende inebriati ci rende inebriati e inebriati vuol dire non inebriati nel senso di ambrosia ma proprio nel senso di ubriachi quindi ha che così riusciamo a immaginarci anche degli effetti collaterali un po' più intensi verso 65 mio caro signore la tua autorità assoluta non può essere percepita direttamente ma considerando l'attività del mondo è possibile ritenere che tutto è distrutto nel corso del tempo quindi qua parla del tempo che è un aspetto importante del signore perché è anche quello che ci muove nel nostro avvicinamento a lui la forza del tempo è molto potente e ogni cosa è distrutta da qualche altra cosa proprio come un animale è cibo per un altro animale il tempo disperde ogni cosa come il vento disperde le nuvole del cielo c'è un verso del Bhagavatam che dice no non è del Bhagavatam non ricordo da dove viene forse viene direttamente dai vela dice un animale è cibo per un altro animale non è un animale non è è givo givassia givanam ogni giva è cibo per un altro agiva ogni essere vivente in un corpo è cibo per un altro essere vivente in un corpo e l'abbiamo ricordato la scorsa volta ricordo che noi in effetti non siamo nessuna sembra che non siamo nessuna catena alimentare ma di fatto anche noi siamo cibo anche noi siamo cibo ma forse non siamo cibo di carne magari siamo cibo di emozioni 66 mio caro signore tutti gli esseri di questo mondo come presi della follia fanno piani su piani e sono sempre indaffarati a desiderare questa o quella cosa a causa di una avidità incontrollabile l'avidità per il piacere materiale esiste sempre nell'essere vivente ma tua grazia è sempre allerta e a tempo debito colpisci l'essere l'essere proprio come un serpente afferra un topo e lo inghiotte con grande facilità che immagine potente e e Prabhupada cita questo verso prakrite kriyamanani 327 l'anima confusa condizionata dalle tre influenze dell'energia materia della natura materiale pensa di essere l'autore dell'attività che in realtà sono compiute dalla natura perché senza una connessione con la fonte e questo lo possiamo vedere in ogni attività anche materiale che facciamo senza la connessione con la fonte di quello che noi facciamo pensiamo se lavoriamo in una grande azienda se non abbiamo la fonte con lo spirito di quella grande azienda se non sappiamo qual è l'obiettivo di quell'azienda la mission di quell'azienda il modo per arrivare a quell'obiettivo se noi non conosciamo questo tutte le nostre azioni saranno scordinate e confuse e alla fine porteranno a grande frustrazione nonostante il grande impegno che noi possiamo metterci perché saranno tutte elucubrazioni saranno tutte idee congetture allora per questo che noi continuiamo a fare si dice che continuiamo a fare piani su piani su piani per cercare di cogliere qualcosa dall'energia materiale non sapendo che non è che l'energia materiale non ci dia piacere perché qualcuno ha deciso di farci un dispetto ma è perché ci stiamo rivolgendo all'energia sbagliata è solo una questione di ghiana di conoscenza di avvidia di ignoranza quindi proprio noi ci colleghiamo semplicemente alle cose sbagliate e quindi abbiamo noi coltiviamo sentivo poco tempo fa non il piacere negli oggetti materiali ma la speranza del piacere negli oggetti materiali noi di fatto coltiviamo una speranza che non è mai portata a compimento non è mai soddisfatta realmente abbiamo continuamente una speranza fino a pensare addirittura che se oh se avessi questo o quell'oggetto allora sì sarei diverso queste sono cose mentali perché la mente non vuole la vera trasformazione perché pensa di perdere un predominio e qua ricorda bello qua ricorda Prabhupada il famoso verso 529 che dovremmo veramente stamparselo nel cuore solo così solo riconoscendo la supremazia del Signore perché è realtà non è un'idea è realtà riconoscendo che Lui è l'oggetto è il beneficiario di tutte le nostre azioni tutte le nostre offerte che Lui è il il padrone di tutto è è sua ogni cosa ed è come dire è utile saperlo di chi stiamo usando le cose come come Gesù quando l'avevano fatto questo tranello no questo così lo volevano fare questo gioco ma allora bisogna pagare le tasse a Cesare lui si era fatto dare la moneta ha detto ma qual è la cosa c'è cosa c'è in questa moneta chi era figurato Cesare allora date a Cesare quel che è di Cesare ma date a Dio quel che è di Dio cioè tutto il resto poi possiamo potremo anche arrivare che quella cosa la di Cesare è di Dio ancora ma comunque molto limitato intanto diamo le limitazioni a meno dividiamo le cose che ci è utile a meno per capire gli ambiti delle nostre manovre date a Dio quel che è di Dio che è tutto tutto in primis noi in primis noi stessi sicuramente noi non siamo di Cesare o chi in questo momento si può chiamare Cesare sicuramente non siamo suoi e anche ovviamente il terzo aspetto che è quello sulidam sarva butanam sono l'amico più intimo che dà appunto l'abbiamo detto più volte perché mi piace molto questo verso ma dà questo aspetto affettuoso e amorevole a questa dichiarazione forte del Signore che la dice appunto nel quinto capitolo siamo all'inizio ha detto tante altre cose nel quarto capitolo ma belle intense e chiare però in questo in questo verso proprio da un'immagine chiara di sé sarvalokamahishfara ok mio caro Signore qualsiasi persona accolta sa che la sua vita è sprecata se non ti adora sapendo ciò come si potrebbe abbandonare l'adorazione dei tuoi piedi di riloto anche il nostro padre il nostro maestro spirituale bramà che ha adorato senza riserve ti adora e i quattordici manu hanno seguito le sue orme e poi vi voglio leggere un pezzo di di commento perché è proprio bello di proprio padre perché qui parla dell'adorazione dei piedi di riloto ma seguendo le orme seguendo le orme del maestro dell'acciare di chi è venuto prima di me di chi l'ha già fatto di chi lo fa secondo Shilarupa Goswami quando un devoto progredisce spiritualmente capisce che dovrebbe diventare riservato e perseverante kshanti e dovrebbe impegnarsi al servizio del Signore senza perdere tempo avyarta kalatvan dovrebbe anche essere distaccato da tutte le attrazioni materiali virakti e non dovrebbe desiderare alcun segno di onore materiale in cambio delle sue attività mana sunyata vi ricordate a manina manadena dovrebbe essere sicuro che Krishna gli concederà la sua misericordia asya bandaha bandaha sambanda quello che che è la connessione e il rapporto che abbiamo tra noi e lui che è fatto dall'amore dalla misericordia soprattutto dalla misericordia e dovrebbe essere sempre molto desideroso di servire fedelmente il Signore il saggio è sempre molto ansioso di glorificare il Signore col canto e con l'ascolto ed è sempre pronto a descrivere le qualità trascendentali del Signore e gli dovrebbe anche essere attratto da quei luoghi dove il Signore ha manifestato i suoi divertimenti questi sono i segni che permettono di riconoscere un devoto elevato questi sono i segni che permettono di riconoscere chi sta adorando veramente i piedi di lotto del Signore continuo col verso 68 perfetto così finisco questa parte mio caro Signore tutte le persone veramente erudite sanno che tu sei il Brahman Supremo e l'anima Suprema sebbene l'universo intero abbia paura di rudra il quale alla fine annienta tutto ciò che esiste per i devoti erudite tu sei la destinazione che non incute timore e che tutti devono raggiungere la destinazione assolutamente priva di paura e ricordiamoci che è Shiva stesso che parla di se stesso che parla di rudra quindi lui sta parlando della paura ispirata da rudra credo ce ne sono qua nel nel commento lo dice ci sono più aspetti di rudra sono undici ma lui stesso dice non entriamo su questo Prabhupada stesso dice non entriamo su questo aspetto quindi perché ed è lui ed è Shiva stesso che dice io posso creare paura ma tu no mai perché tu proteggi sempre chi ti è vicino vi ricordate e lo richiamo lo richiamo io perché lo richiama Prabhupada nel 931 l'abbiamo detto mi ricordo nelle conferenze più volte mio caro Arjuna dichiaralo pubblicamente dichiaralo con forza il mio devoto non parirà mai in nessuna circostanza e vi ricordate che finisco e vi ricordate che Krishna l'ha fatto dire ad Arjuna per essere sicuro con se stesso che questa è una promessa che non potrà mai essere vanificata perché Krishna a volte fa delle promesse e poi per amore dei suoi devoti magari non le mantiene perché non l'interessa della sua fama o infamia non l'interessa però l'interessa invece l'onore dei suoi devoti ed è per quello che diceva ad Arjuna dichiaralo con forza pubblicamente in modo che tutti ti possano sentire noi tutti perché nella Bhagavad Gita è stato scritto e sancito nella Bhagavad Gita 931 quindi nel capitolo tra l'altro il capitolo 9 tra i più profondi inizia proprio con ti rivelerò Guiam ti rivelerò la conoscenza più profonda più segreta dei segreti e dice dichiaralo con forza il mio devoto non perirà mai nessuna circostanza mai mai noi pensiamo che ci possono essere delle ragioni e invece no mai bene allora pensavo di finire ve lo dico sinceramente ma mancano ancora pochi versi ma vorrei affrontarli con la dovuta tranquillità ma sono pochi e stiamo arrivando proprio alla fine la prossima volta penso che finiremo e poi vi anticipo perché non so se lo introdurrò la prossima volta oppure finiremo semplicemente questa e sarà per quella dopo ancora ma vi anticipo che quando avremo finito la Rudra Gita volevo affrontare cioè affrontare insieme a voi studiare insieme a voi e riflettere insieme insieme a voi dello lo Sikshastakam cioè della preghiera in otto versi di Chaitanya Mahatrabhu cioè se Krishna ci ha rivelato la Bhagavad Gita il Signore Chaitanya ci ha rivelato lo Sikshastakam quindi ed è una preghiera meravigliosa ha delle degli insegnamenti molto profondi volevo insieme a voi con le vostre benedizioni volevo affrontare questo argomento passare a questo tipo di preghiera bene vi ringrazio intanto siamo arrivati alla fine della questa praticamente alla fine ci sono le istruzioni di di Shiva che dà ai Praceta per recitare questa preghiera quindi siamo proprio arrivati alla fine però insomma è giusto prenderci qualche qualche almeno un po' della lezione prossima dopo magari è tutta non lo so e allora Giuseppe Savio chiede salve avrebbe un minuto per spiegarmi i vantaggi i vantaggi del trattenere il seme o l'energia sessuale a scopo dell'evoluzione spirituale è una risposta lunga Giuseppe e la farei volentieri così accenno che l'energia sessuale tra le energie più forti che c'è in questo piano di esistenza tra l'altro più forti che c'è possiamo anche dire più forti che esista infatti l'energia sessuale è l'energia della Kundalini cioè quando io riesco a trattenere l'energia sessuale quindi che è come dire per come noi la intendiamo è estrovertita cioè va da noi a fuori estrovertita quando noi invece riusciamo a cambiare il senso di questa energia e quindi vuol dire non è frustrazione non è trattenimento perché lo dice tra l'altro Krishna e la Bhagavad Gita che attraverso la frustrazione non si va da nessuna parte ma è una sublimazione quando riusciamo a trasformarla e sublimarla quindi connetterla e quindi capire la sua potenza e capire il suo scopo e in effetti la nostra energia interiore sale molto infatti il bramacariato che è una delle fasi della vita dello spiritualista ma che può anche continuare fino alla fine di una vita ma il bramacariato che è il momento dello studio quindi della recezione della conoscenza quindi della trasformazione tra avidia ad vidia quindi avere la conoscenza del maestro si consiglia cioè si consiglia il bramacariato appunto l'astinenza sessuale proprio per mantenere tutte le nostre facoltà psichiche anche perché l'energia sessuale porta fuori molto 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 e molto lontano la nostra mente per trattenere tutta la nostra energia ed usarla per uno scopo più elevato che è quello verticale quello spirituale poi non è detto che alla fine però sto rispondendo quindi non è detto che non venga usata non vuol dire che uno appunto deve continuare questa astinenza perché può invece svolgere la vita di famiglia che si chiama GRIHASTA dove però viene comunque bilanciata armonizzata non è un'energia che diventa totalizzante nelle nostre azioni come di fatto tenderebbe almeno adesso in questo periodo insomma in questa fase delle manifestazioni cosmica della manifestazione del mondo tenderebbe a fare cioè come se fosse un'energia totalizzante quindi questo quindi è per quello che si consiglia nell'evoluzione spirituale comunque di avere un'attenzione per questo tipo di energia perché di fatto è molto molto è molto forte come dire è uno almeno questo da sentito dagli spiritualisti più avanzati ma è come proprio uno spreco è come buttare cose così cose preziose non so pelle ai porci proprio è è uno spreco usarla per fini tutti estrovertiti è uno spreco è uno spreco di risorse ed è per questo che ci sono anche dei degli eventi delle situazioni adesso così degli episodi nel Bhagavatam stesso ma anche nell'Upanishad e anche Natri Purana dove ci sono grandi saggi che avevano acquistato una estrema energia interiore Tejas proprio che è un'energia del fuoco proprio un'energia infatti siamo fuoco che addirittura l'essere celesti per paura di perdere il loro Indra in particolare per paura di perdere la sua posizione mandava qualche essere celeste femminile per distrarre la meditazione e l'assoluta concentrazione del saggio in quel momento e l'obiettivo era disperdere il suo seme perché è proprio una diminuzione di energia a dire la verità non so da dove è venuta questa domanda a te da quello che avevo detto forse avevo toccato accidentalmente qualche argomento simile mi scuso per averlo fatto in modo frettoloso e quindi averti lasciato questo dubbio è la stessa cosa per le donne è la stessa cosa per le donne sì però è veramente adesso ho aperto ho risposto in un modo ma in 5 minuti è un è un argomento abbastanza impegnativo cioè non impegnativo però abbastanza complesso non così perché ci sono varie facettature dell'argomento perché in effetti è una ma comunque sì possiamo dire così a grandi linee in modo molto generico però insomma che ci prendiamo comunque dentro diciamo qualcosa di vero sì l'energia sessuale comunque è un'energia che disperde parte della nostra energia poi uno può anche decidere se ne vale la pena non ne vale la pena insomma può fare le sue considerazioni infatti dare vita ad un'anima portare un'anima in questo mondo un'anima elevata in questo mondo e consentirli di avere la forma umana per poi elevarsi al pianeta spirituale è un come dire è un motivo valido per disperdere questo tipo di energia Prabhupada ad esempio diceva altri tipi che sono una gratificazione temporanea secondo lui non è un motivo valido per disperdere questo tipo di energia perché perché non per peccato per moralità ma proprio perché non oltre a farci un po' più attaccare alla materia cioè avere possesso ecco della materia che in gessuale vuol dire anche possesso delle cose dicevamo prima possesso amore sono due antipodi ma anche perché appunto disperde questo tipo di energia che insomma che abbiamo che non è infinita se non ci colleghiamo alla fonte quando ci collegheremo alla fonte avremo un'energia infinita ma quando non siamo collegati è un'affermazione ah ok ok Gioele bene ok perfetto è un'affermazione esperienza personale bene molto molto meglio allora è meglio avere le risposte tratte da esperienza personale bene grazie a voi vi ringrazio scusate per questi ultimi dieci minuti in effetti avrei dovuto io finire 50 50 52 così vi lasciavo il tempo per le domande senza tenervi oltre l'ora siete già molto gentili ci vediamo mercoledì prossimo che finiremo con un punto questa bellissima luta la gritta e se avremo un'opportunità magari inizieremo questo nuovo così questa nuova preghiera ci metteremo un po' un po' di lezioni perché è molto molto profonda molto 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 bella tra l'altro ma adesso lo faremo lo dirò la prossima volta perché siamo già in meno ma comunque vorrei anche introdurre la recitazione di qualche mantra di qualche preghiera all'inizio di questi incontri di preghiera stavo pensando che in effetti io lo faccio un po' per me prima di iniziare la lezione però sarebbe bello invece che potessimo almeno che vi condivida così qualche verso che la maggior parte di voi tra l'altro conosce ma qualche verso giusto per entrare nello spirito di preghiera secondo me la prossima volta che inizieremo appunto se avremo l'occasione di inizieremo con Sik Shastakam sarebbe molto bello anche come dire centrarci attraverso di entrare direttamente in questo bello spirito attraverso quella recitazione o l'ascolto o la recitazione di qualche di qualche mantra aspettavo anche io per non partire troppo aspettavo insomma insomma siamo arrivati all'undicesimo incontro insomma va bene se beh ad esempio una moda che fateva su Devaia ovviamente ovviamente il mantra famoso mantra delle 12 sillade che abbiamo conosciuto quando abbiamo visto la preghiera di Dhruvamaraj e tutti gli avvenimenti intorno alla figura meravigliosa di Dhruvamaraj adesso vi lascio veramente grazie ancora e a presto ci vediamo mercoledì prossimo Hare Krishna e buona settimana a voi grazie a tutti grazie a tutti